Ragazzi il mio pentu... cosa succede al mio personaggio? E' entusiasta! Senti caldo bro! Ti capisco Oggi andremo a finire questa stagione Calmi, teorie, cose varie Le andremo a fare questo oggi Purtroppo raga Per il fumetto sono un po' indietro Ma per ora come lo sto vivendo io Adesso non so neanche se uscirò questo video Il fumetto è appunto andato avanti Io in questo video sono qui Sono dovuto venire qui Per spiegarvi un po' come va la situazione Ma andiamo a fare una lista prima E per anche arrivare al livello 100 Per spiegarvi un po' tutto Anche fare il custom brello Perché questo è l'ultimo giorno della season L'ultimo giorno della season Allora Io adesso vi dico che Vi lasciate intanto un bel like Per il mio ritorno Iscrivetevi E Aspettatevi domani la reaction Al nuovo pass battaglia Ho detto qualcosa? No Aspettatevi la reaction Iscrivetevi, like E iscrivetevi al canale Li pari del tavolo di Cristian Giannoni Axeltrix Il canale di mio amico Alessandro E E E E E E E Non so più cosa vi dovete iscrivere Anche agli LBL Adate un'occhiata anche lì E seguite Alessandro e Cristian su TikTok Andate a vedere i loro canali Saprete tutto insomma Vabbè ma vando alle ciance Oggi Cercheremo Di finire Cos'è? Regia? Cos'è che cercheremo di finire? Il pass Finiremo il pass Sì sono a livello Novantanove E pochissime stelline Faccio una rissa Tattica tattica Per finire il pass Boh Non Non è che vado in Molti posti Vabbè Vado giusto qua Abbiamo la scena del cavaliere Ma sono come vedete a livello novantanove Mi manca veramente Poco Per arrivare A livello Numero 100 E sbloccare il cavaliere eterno In realtà Non so se è meglio fare appunto questo video Prima di sbloccarlo Nel momento in cui lo sto sbloccando Perché Vorrei fare anche una partita Col cavaliere eterno Anche se rapida e indolore Vabbè Noi siamo atterrati qui A rapide rischiose In ogni caso Adesso vi parlerò Del fumetto Del fumetto Che sta facendo Che sta facendo Ah non mi mandare Ah Non c'è tutto per rendere una R Del fumetto che sta facendo Che è successo? Ah si vai Sarà dopo A rapide Non ci vado molte volte Del fumetto Della Marvel Voglio fare un po' di chiarezza Perché si Nessuno ci sta capendo Niente Devo prendere il cecchino Per una missione Non ammattatemi Grazie Anche perché avevo due pompa Devo cercare però anche una R Magari Boing E hopla A R Facciamo una R Per favore Chiedo a R Grazie Vedete raga A Fortnite Basta che lo chiedete E ricevete una R Tattico e pulito Però Io bisogno anche Una canna da pesca Per favore No Bro Vabbè La mitragliata Ce l'ho già Mi sistemo L'inventario Perché così Non lo posso vedere Bro Cosa sapremo Arrangiati Io cerco una canna da pesca E poi vado subito A pescare pesci Perché ho un'altra missione Da fare Comunque Volevo un attimo Mettere chiarezza Fumetti Non fumetti Fumetti Non fumetti Il fumetto Raga Parla di Parla di Galactus Raga Di Galactus Di Galactus Che per chi non lo sapesse Ma ragazzi Se non lo sapete Io vi sparo Provate a dire Che non sapete qualcosa E Siete punti Praticamente E Peschiamo E Iscrivetevi al canale Like Che sfortuna Like Iscrizione E Eh no Stavamo parlando Del fumetto Il fumetto Il fumetto Raga È una cosa Che riguarda Galactus E Thor Che viene nominato L'araddo del tuono Io vi ripeto I fumetti In realtà Non è che li seguiamo Io mi sposto In un altro posto Io mi sposto in un altro posto Ah Anche Il Di romper Se Ho la voglia Di romperla Se E qui Abbiamo Delle belle Pozze Pozze Di pesca Allora Raga Adesso Avasserò Anche Il volume Perché È veramente Alto Ma ci Tenti a te Io Raga Non capisco La gente Qualche volta Allora Raga Adesso Cercherò Di Spiegarvi Un po Come va Il fumetto In questo momento Il fumetto Raga Va praticamente Che È appunto Thor La rado del tuono Che gli aiuto Anche Alla sua amica Sif 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 Che è appunto Un'amica di Thor Raga Seguite Seguite il film Anche voi Raga Degli Avengers Raga Mi raccomando Perché se no Siete morti In poche parole Raga Sì abbiamo capito Ma abbiamo completato Una sfida Da Lasciamo perdere Va E quindi Raga Tutto parliamo Di questo fumetto Io volevo mettere Chiarezza Che c'entra Galactus Ma non sono Tutti i personaggi Della Marvel Perché Questa è Tutta un'altra cosa Non stiamo parlando Di Iron Man O di Potrebbero anche Sere aggiunti Però Stiamo parlando Di Un contro Galactus Che è Molto 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 Bravo Vuole soltanto Ammazzarci Quindi niente Di che Magari Non andartene Grazie Non si può pescare Un air drop Bene Noi pescheremo Un air drop No 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 Centia la corrente Accidenti No Grazie Ah Siamo arrivati A livello Cento Raga Siamo arrivati A livello Cento Non Ci posso Credere Livello Cento Livello Cento Torniamo subito Alla lobby Cosa ce ne frega A noi degli avversari Ma raga Se Perché qui C'è C'è Un po' Di cose E perché C'è qualcuno Che tiene Qualcosa A un volume Troppo alto No E E quindi Adesso Andremo a parlare Anche del fumetto Punto C'è Sif Che è Un aiutante Di Thor Ma che bella Schermata Ma è questa Cavaliere Eterno Con tutti i suoi stili In tutta la sua bellezza E la voglio tenere nera Grazie Thanks Thanks Livello Cento Anche questo pass È stata un po' dura Pensavo di sciopparmi I livelli Ma livello cento Voglio provarla nera Così Con il suo backpack Così E il suo spade Va bene Facciamo anche senza Backpack Proviamola senza Spade Coso Non dorato Ma nero E Praticamente Niente Che altro c'è Niente Andiamo a fare una partita Rapida Rapida E in dolore In singolo Dove andiamo Velocemente a provare Questa Bellissima skin Del livello Cento C'è Allora Il livello cento Io pensavo di non finire Questo pass Ma invece Ce l'ho fatta 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 Voi Iscrivetevi Perché se vi scrivete Perché se vi scrivete Dovete iscrivervi assolutamente Per non perdervi Il video di domani E E E E allora Ma se ci fosse qualcuno Che Ecco Per non perdervi Il video di domani Che sarà La reazione Al pass Battaglia Numero 4 Non vedo l'ora di reagire E scioparlo No Forse Non so ragazzi Se è più bella Con O senza Backpack Raga Secondo me Boh Non lo so Vi devo dire Sono molto molto Indeciso Vado alla fortiglia Perché devo Cercare un luogo Con molti punti di pesca Oppure vado ovunque Qui in riviera Nella riviera Roma Niente niente Iscrivetevi La Che è un bene Alline Però stiamo parlando Di Tore Galactus Non ci sono ancora I personaggi Che ci saranno Nel prossimo pass Penso anche Sif Penso anche Sif E alcuni dicono Una banana wall Wolverine Una wall Un wolverine Wolverine Anche se Cosa c'entra Col fumetto Con il martello di Thor Che troviamo Vedete In quella zona Tutta marroncina Dove c'è il martello di Thor C'ho riprenda Non so se voi Avete visto Cercate su internet Dovete informarvi La scena In Thor 1 Che io purtroppo Non ho visto Molte Ho visto una parte Di quel film Non l'ho visto tutto In cui Odino punisce Thor E gli fa cadere Il martello Su un punto Sulla terra Sembra la stessa cosa Dite la verità Andiamo Noi andiamo qui E raga Io sono super Non vedo l'ora Questa è la mappa Attuale Prima della stagione 4 Così almeno Dopo la stagione 4 Dio Ma quante vecchie Questa mappa No vabbè A parte gli scherzi Muninelli Sono stati implementati Sapete ragazzi Credevano Non esistessero più Dunque ragazzi Devo pescare Affitto al cobaleno Ma che città è Vabbè Ci dobbiamo perdere Noi dobbiamo pescare Questo è quello Che ci interessa Pescare È il nostro Obiettivo La safe Ovviamente Non è Dalla nostra parte Le armi Non sono Il nostro obiettivo Sono i pesci Il nostro obiettivo Cioè Prima quanti Ne abbiamo pescati Pochi Ah Bene Good job Il pesce piccolo Così ragazzi Conto quanti Ne pesco Bene La zona è finita Andiamo qua Abbiamo pescato 3 pesci Finora 3 Dai Almeno 10 Lo so Sono un po' esigente Ma Ma sinceramente 10 pesci Quindi Vorrei Thanks Ma se no No se ne sono andati Accidenti ai pesci Ma niente Qui purtroppo Solo due Male 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 Non va bene No 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 Abbiamo anche la fiocina Guarda te Un altro strumento Tac Ah però Non so se Conta come pescare Vabbè Noi usiamo la canna Raga Che La canna da pesca Intendo E niente Sono andati Anche Ah no Ci sono ancora Ci sono ancora Bravi Raga Soltanto 5 pesci Dai Siamo a 30 Accidenti ragazzi Dobbiamo cercare Dobbiamo cercare più Dobbiamo cercare più Insomma avete capito Proviamo a tirare Una cosa a caso Pesci Si Pesce Che fortuna Siamo a 31 Su 50 Sto facendo qua la missione Comunque raga Io vi saluto così Giusto per finire il pass Arrivare il veloci Se no questo video Dura veramente troppo Iscrivetevi Lasciate like E Oh Ha boccato Niente Lasciate like E insomma Chissà Un po' Comuncerà la stagione 4 Insomma E' bello anche questo cavaliere Insomma Like E' bello Alla prossima